Secondo appuntamento di questa terza edizione della rassegna targata Dark Side Storia Segreta d'Italia realizzata in collaborazione con il comune di Vasanello che ci ospita in questa bellissima location devo ringraziare doverosamente le persone che ci permettono di realizzare questa bellissima iniziativa ormai da tre anni il sindaco Igino Vestri l'assessore della cultura Domingo Martinez il presidente del consiglio popolare Giuseppe Mancuso preziosissimo preziosissimo che ci hanno veramente accolto qui come dei concittadini ormai siamo vasanellesi doc ormai siamo vasanellesi doc di fatto aspettiamo solo le chiavi della città sindaco vabbè allora anche no allora dopo il primo incontro della scorsa volta con l'ex agente segreto Marco Mancini oggi diciamo che è un po' una tavola rotonda una tavola rotonda molto particolare perché oggi l'argomento è di quelli particolarmente scottanti parliamo dei delitti del mostro di Firenze argomento molto difficile per la sua vastità per i mille rivoli che questo argomento va a toccare e gli ospiti non sono scelti a caso perché gli ospiti di stasera rappresentano in qualche modo le diverse istanze che danno corpo a questa vicenda abbiamo qui con noi l'ex magistrato Giuliano Mignini che si è occupato a lungo del cosiddetto filone perugino che è al centro del divano è giusto per indicare al centro del divano si è occupato il filone perugino indagato sulla morte di Francesco Narducci il medico di Perugia trovato cadavere e qui metto delle virgolette abbastanza grandi nel lago Trasimeno poi spiegherà il perché di queste virgolette poi abbiamo gli avvocati Walter Biscotti e Michele Antonioni Michele Antonioni è l'avvocato del dottor Mignini e lo ha seguito in questi anni quindi è un grande conoscitore di queste vicende che hanno toccato entrambi anche sul piano personale e abbiamo l'avvocato Walter Biscotti che tra i tantissimi casi di cronaca nera di cui si è occupato ricordiamo il delitto Pecorelli ricordiamo il delitto di Sarascazzi e tanti altri casi molto mediatici ultimamente si sta occupando da circa due o tre anni del mostro di Firenze che ha chiesto la revisione del processo ai compagni di merende allora dobbiamo necessariamente fare un piccolo bigliami del mostro un'introduzione iniziale non entreremo nello specifico comunque al mostro di Firenze vengono attribuiti 16 delitti 16 delitti che partono dal 1968 e arrivano al 1985 e c'è diciamo una discussione anche molto sensata sull'attribuzione del primo delitto al mostro di Firenze ma questo magari lo accenneremo nel corso della discussione nell'85 la scia di sangue si ferma si ferma e da quel momento parte il mito il mito del mostro di Firenze e nel corso del tempo i filoni sono stati innumerevoli c'è stato abbiamo parlato del filone dei compagni di merende che probabilmente tutti conosciamo quindi quando venne individuato Pietro Pacciani come possibile mostro e partì tutto il processo ai vari Vanni Lotti insomma chi di noi non ha visto su Youtube stralci del processo giorno in pretura insomma immancabile e poi c'è stata la cosiddetta pista sarda che a un certo punto ha catalizzato l'attenzione degli investigatori ancora prima dei compagni di merende poi appunto il filone perugino c'è tutto un filone delle vittime collaterali che sono tante tutte a loro modo collegate alla vicenda del mostro e poi c'è un altro grande filone che vuole invece l'azione omicidiaria di un serial killer solitario ecco oggi cercheremo di condensare tutto questo in una discussione che speriamo sia anzi siamo sicuri sarà molto interessante speriamo vi possa dare qualcosa e aggiungere qualcosa alla vostra conoscenza su questo caso a questo punto cominciamo lo spiegone l'abbiamo fatto io la prima domanda la rivolgerei al dottor Minini allora dottor Minini se riesce a sintetizzarci toccando i punti cruciali di che cos'è cosa rappresenta la pista perugina in questa vicenda e come lei arriva ad occuparsene dunque io intanto vi ringrazio non conoscevo questa questa località e sono rimasto incantato perché è un posto bellissimo ci tornerò e vi ringrazio dell'ospitalità ringrazio gli organizzatori io in questa vicenda questa vicenda del Silone Perugino e io sono Perugino da generazioni penso abbiamo fatto ricerche siamo a metà settecento più o meno e quindi conosco 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 la città conosco conosco tutte le caratteristiche della città e ho frequentato io frequentavo il liceo classico che c'è l'unico l'unico liceo classico che c'è a Perugia il liceo classico Mariotti che era frequentato anche dal medico Narducci quindi io questa vicenda questa vicenda l'ho seguita fin da prima che me me ne interessassi come magistrato come 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 curioso come come Perugino come conoscitore di questa persona in pratica succede questo il lascio perdere l'incontro che ho avuto per caso con questo non era compagno di classe perché faceva un'altra sezione ma insomma che ho avuto qualche giorno prima no lo lasci perdere invece perché è molto interessato devo dire all'aneddoto pochi giorni credo credo era una giornata di sole ma quell'anno era un un ottobre forse potrebbe essere stato anche settembre era abbastanza caldo abbastanza soleggiato l'inverno invece fu piuttosto freddo e il io stavo tornando a casa incontro il Narducci che stava armeggiando intorno alla sua famosa moto è una la moto di Narducci è una moto famosa poi vedremo di vedremo di ritornarci ma io rimasi colpito dalle condizioni fisiche e anche psicologiche di Narducci che non avevo mai visto in quel modo era deperito io pensai che stesse fosse affetto da un male incurabile proprio perché veramente era in condizioni e aveva mi ricordo ancora perfettamente aveva degli occhiali molto scuri che coprivano non si vedevano gli occhi da dietro si vedeva una ferita che sporgeva sulla guancia destra me la ricordo ancora e mi rimase impresso io lo salutai lui era molto era in condizioni veramente io non so quello che quello che che aveva insomma questo qualche giorno qualche tempo dopo era doveva essere questo era diciamo verso metà settembre verso anche ottobre prima ovviamente della scomparsa che era l'otto ottobre tanto che quando scomparve e noi lo leggevamo noi leggevamo le notizie del della vicenda dal giornale la nazione di di Firenze che si legge a Perugia era il giornale ancora più letto a Perugia quindi venivamo informati molto molto dettagliatamente di questa vicenda e io pensai successo qualcosa pensai legai quella scomparsa a questa impressione pessima che ebbi di lui poi continuai la mia attività io ho fatto la mia la mia carriera a Volterra in provincia di Pisa quindi in prossimità della zona di Baccaiano soprattutto era vicino a Baccaiano di Montespertori delitto dell'82 poi andai a Terni poi tornai a Perugia in procura da allora sono stato sempre in procura a un certo punto non entro in dettaglio sulle modalità in cui emersero queste notizie io mi trovai mi trovai in una indagine per minacce telefoniche molto strane che ancora oggi mi lasciano mi lasciano sconcertato queste minacce e in queste minacce una estetista di Foligno veniva veniva minacciata senza motivo perché non c'era un motivo particolare e questa questa venivano fatti riferimenti progressivamente è una è una specie increscendo questa questa situazione alla vicenda di Pacciani e poi alla vicenda della morte di questo del medico che poi viene chiamato Narducci perché è un crescendo è una è una progressione questa che a mano a mano si sposta verso questo medico Perugino e quindi io dovetti approfondire questo spunto questa questa in relazione a quel procedimento e poi emersero dalle attività di dalle prime attività di indagine che io feci soprattutto quando interrogai il medico legale che non fu chiamato il giorno in cui fu rinvenuto il cadavere e mi imbattei in una situazione questa è la cosa secondo me più impressionante che mi sono trovato di fronte io non ho mai visto delle omissioni e delle violazioni così gravi come quelle che si verificarono sul pontile di Sant'Arcangelo che è la parte meridionale in direzione un pochino di chiusi praticamente tanto per mentre Sant'Arcangelo San Feliciano è verso Perugia verso est non avevo mai visto delle omissioni così gravi non fu fatta l'autopsia non fu portato il cadavere all'obitorio non fu misurata la temperatura rettale non furono fatte fotografie c'erano due certificati di accertamento morte palesemente falsi e poi particolare questo ve lo lascio perché il cadavere fu immediatamente restituito ai familiari senza nulla osta al seppellimento che intervenne dopo i funerali cioè praticamente intervenne tre quattro giorni dopo il rinvenimento del cadavere non hai visto una cosa del genere questo chi senta queste anomalie si sommano all'anomalia più grande ovvero a questa leggenda nera sul corpo di Narducci sì perché il cadavere pescato dal lago è ormai opinione comune che non fosse quello del medico fatto ormai sei aggertato ecco allora di chi era quel cadavere e dov'è il cadavere di Narducci e perché è stato scambiato questo cadavere questo a saperlo il cadavere ci fu un'operazione volta a impedire qualsiasi indagine su questa perché perché in quella in quel pontile erano a fronte della totale assenza di accertamenti erano presenti il questore che non aveva alcun titolo per essere presente perché non è un'autorità di polizia giudiziaria il questore c'era la squadra mobile che non aveva titolo perché c'erano i carabinieri che dovevano procedere erano i carabinieri competenti in quella vicenda e c'erano i vigili del fuoco i vigili del fuoco di Arezzo per esempio che che intervennero e c'erano praticamente i giornalisti e anche persone che non potevano essere presenti che dovevano essere state avvertite avvertite in anticipo il questore soprattutto c'è una foto e io se voi se voi l'avete vista in queste foto c'è una foto in cui si vede il cadavere che viene trasportato con la pilotina dei carabinieri di Castigliore del Lago che gliene ha portato sul pontile pochi minuti prima del rinvenimento il questore è già lì da Perugia a San Feliciano a Sant'Arcangelo come minimo c'è una mezz'ora di tempo Senta e poi ecco giusto per spiegare a chi non conoscesse la storia il perché stiamo parlando di Narducci e perché a un certo punto comincia a circolare la voce a ridosso della sua scompanza che Narducci potesse essere il mostro di Firenze del Narducci coinvolto se ne parlava anche da prima e la coincidenza particolarmente inquietante è che Narducci muore un mese dopo l'ultimo delitto del mostro e da quel momento in poi smettono le uccisioni ma c'è l'ultimo dettaglio che le vorrei chiedere relativamente a questa storia che meriterebbe un approfondimento che a un certo punto lei lo trova il cadavere di Narducci il vero Narducci e ci sono dei segni che riportano alla morte non per annegamento ma per altri motivi cioè il cadavere che viene rivenuto fino a una certa epoca si dava per scontato che fosse quello del Narducci perché non era stato sollevato il problema c'erano delle dicerie mi ricordo ma sulle dicerie in questa vicenda ce ne sono state tante però mi ricordo che a un certo punto quando è che emerse l'incompatibilità dei due cadaveri con l'autopsia quando io dovetti dovetti decidermi visto che non era stata fatta ed era indispensabile ad avviso del medico legale che era un luminare della medicina legale italiana il professor Giovanni Pierucci dell'università di Pavia io dovetti fare la risumazione del cadavere non vi dico in mezzo a quali ostacoli che si scatenò un pandemonio ma dovetti farla e dalla dall'apertura della bara emerse che il cadavere che era nella bara che era quello del Narducci io lo ricorrompi mi ricordo era conservato in maniera ineccepibile mentre il cadavere del lago era gonfio era brachicefalo alto 1,60 e aveva non aveva i capelli aveva pochissimi capelli era vestito con una camicia e la cravatta Narducci invece quel giorno secondo quello che riferisce la moglie aveva una lacoste e lei lo trovò Narducci dentro la bara con paramenti sonici lo riconobbi era alto 1,82 Snello e la cosa importante da un certo punto di vista che però io sul momento non ho potuto approfondire era che nel cadavere del Narducci sotto i pantaloni c'era un grembiule c'era un grembiule che secondo un esperto che fu richiesto dai medici regali era un simbolo aveva una valenza simbolica massonica arcaicizzante e poi tenete presente questo con funzione punitiva cioè questo cadavere è stato degradato in un contesto massonico se era così insomma questa era l'ipotesi è stato punito e inoltre aveva lo suo ioide spezzato poi dall'analisi della dell'analisi della che fu ostacolata in tutti i modi aveva la la cartilagine tiroidea destra mi pare vistosamente fratturata cioè era stato strozzato perché non era non era strangolato perché se fosse stato strangolato con un laccio c'era una lesione completa invece questa era circoscritta delle dimensioni di circa un paio di centimetri il polish di una mano probabilmente un professionista un professionista professionista ecco è quello che ho pensato abbiamo pensato subito però ecco voi capite si deve questa sorpresa poi ti impone degli accertamenti posteriori ho fatto quattro consulenze antropometriche l'ultima l'ho fatta fare il colonnello Garofano del RIS Carabinieri di Parma che ha concluso ha confermato la misurazione che era stata ipotizzata dall'assistente del professor Pierucci quindi cadavere era un altro chi era questo si è arrivati al punto a un punto in cui era io sono stato molto prudente lo riconosco a Firenze mi hanno detto che il cadavere era quello era un corriere della droga messicano che era stato ucciso gettato da un treno in cursa nella zona di San una zona della zona sempre del lago Trasimero vicino Passignano San Donato di Passignano e quindi e quindi si chiamava mi ricordo anche il nome comunque eredia Sanchez eredia qualcosa diciamo che la zona attorno a Perugia negli anni 80 sembrava non è un paese per vecchi insomma Corriere della droga Perugia 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 è una città che sotto sotto presenta degli aspetti ci sono stati casi abbastanza e soprattutto lei si è occupato anche del caso Meredith Kercher come Meredith Kercher sì Allora Narducci era un elenco di sospettati che fu richiesto dalla Davigna e Canessa nell'87 arrivò alla procura di Firenze nell'87 era un elenco di sospettati lui era numero 185 di questi sospettati ed era l'unico morto dopo l'ultimo delitto però attenzione gli altri erano tutti vivi grazie Diego e poi quello che è emerso a parte le frequentazioni della zona di qui ci arriveremo Cerinja quello che è emerso è che è il discorso dei fetici i fetici perché in più occasioni ci sono varie varie persone io posso fare i nomi che hanno raccontato che hanno posto in relazione in Narducci alla custodia dei fetici perché ricordiamo che in alcuni dei delitti del mostro ci fu l'escissione di parti del corpo femminile in particolare il pub quindi questo sarebbe l'elevene secondo me è quello si è sempre parlato anche della possibilità della mano di un medico almeno a livello popolare è quello che ha scatenato le dicerie all'indomani della scomparsa ci deve essere stato un invenimento di questo tipo e da lì è venuto fuori perché era clamorosa questa questo è il punto poi la sua partecipazione ai delitti è innotizzabile ma su questo io devo certo allora grazie dottor Minini torneremo a toccare a sfiorare l'argomento e Marcello intanto facciamo un attimo una giusto una postilla tra i vari media partner di questa iniziativa c'è Nero Crime abbiamo qui stasera i due esponenti di Nero Crime Valentina e Armando che ringraziamo e che stanno credo facendo non so se è una diretta o qualcosa comunque grazie grazie a vostra presenza saranno i nostri ospiti il 19 aprile quando faremo una cosa molto simile una tavola rotonda sulla strage di Ernia altro argomento particolarmente di attualità allora Marcello se dimmi vogliamo prima di affrontare facendo un passo indietro penso che tu voglia parlare un attimo con l'avvocato Antonio Allora rimaniamo sempre in un ambito trasversale quindi che circunnaviga i delitti veri e propri del mostro e arriviamo a appunto a toccare e fare un po' una carrellata se così possiamo chiamarla di quelle che sono le vittime collaterali come abbiamo detto ci sono diverse persone legate a vario titolo alle persone coinvolte o perché indagate o perché uccise che negli anni successivi o a ridosso in prossimità anche del vittime del mostro muoiono in modi agghiaccianti ecco queste vittime non entrano nel novelo delle vittime ufficiali del mostro però tutto lascia pensare che possa esserci un collegamento e dottor Mignini se passa il microfono al suo avvocato grazie dottor Antonioni e appunto se ci può fare questa panoramica con piacere io ho approcciato questa materia già da qualche anno da prima come appassionato e poi mi ha onorato il dottor Mignini del mandato difensivo per tutelare il suo onore e la sua reputazione che ancora oggi a distanza di tanti anni dalle indagini che lui ha fatto nel pieno e legittimo esercizio del suo ministero che era ministero di pubblico ministero chiedo scusa per il bisticcio di parole io credo che sia un unicum nella storia giudiziaria italiana che un pubblico ministero venga quasi bersagliato semplicemente per aver fatto il suo dovere il suo dovere fino in fondo senza guardare in faccia a niente e a nessuno e per me è un grande onore averlo difeso e difenderlo e necessariamente con metodo scientifico e con molta prudenza mi sono avvicinato professionalmente parlando quindi non più da appassionato dove potevo avere la mia visione a tutto quello che ha riguardato la ricetta del cosiddetto mostro di Firenze e ho approfondito ho approfondito la domanda che mi ha fatto lei dottor Zanella è estremamente pertinente in relazione alla portata del fenomeno alla vastità perché qui non stiamo parlando soltanto di 14 vittime certe dal 74 serie omicidiare al 74 all'85 più le due che ha ricordato nel 68 ma c'è una sterminata serie di vittime collaterali penso e tutte impunite penso a tante prostitute soprattutto che gravitavano nel centro cittadino di Firenze Meoni piuttosto che Clelia Cuscito piuttosto che tante altre la Caltabellotta non era una prostituta e comunque un'altra vittima collaterale Elisabetta Ciabani una giovane ragazza di 21 anni morta Elisabetta Ciabani soffermiamoci un attimo sulla morte di Elisabetta Ciabani perché è particolarmente inquietante chi era questa ragazza dove muore e come muore e qual era il collegamento con la vicenda del mostro allora il collegamento con la vicenda del mostro a tutt'oggi è ignoto si sa solo che questa era una ragazza assolutamente normale semplice di 21 anni morta in vacanza a Scicli in provincia di Ragusa famiglia assolutamente modesta se non ricordo male era anche orfana e muore con modalità veramente orribili muore in una rimessa dell'hotel dove alloggiava con la propria famiglia con diverse ferite anche al pube che ricordavano il mostro di Firenze con un coltello conficcato nella pancia nel 1982 e anche qui la cronistoria degli eventi è molto particolare allora questa è Elisabetta Ciabani questa morte viene classificata in maniera veramente inopinata e strana come suicidio io ho avuto la sfortuna di vedere le foto del cadavere e sono certo che non si poteva trattare assolutamente di suicidio c'è qualcuno nella vasta letteratura mostrologica prima ancora che nelle indagini ufficiali che ha parlato di un collegamento di un'amicizia certa con una delle vittime del mostro con Susanna Cambi ma questo non è un elemento certo di certo c'è che abitavano a non molta distanza di altrettanto certo c'è che in quei giorni soggiornava a non troppa distanza da Scicli il giudice istruttore Tricomi all'epoca c'era ancora la figura del giudice istruttore non c'era ancora il GIP che era ospite dell'altro magistrato Severino Santiapichi che in quei giorni si stava occupando del primo processo Moro quindi le analogie le circostanze diciamo e soprattutto il fatto che questa sia una morte particolarmente strana viene viene sott'occhio non ultimo un dato che aveva registrato l'indagine fatta dal dottor Giuttari col Gides a Firenze gruppo investigativo dell'elitti seriali che venne creato proprio per indagare sulle correlazioni esistenti eventuali correlazioni esistenti tra le vittime del mostro e la figura di Narducci che accertò che questa Elisabetta Ciabani era stata dipendente per un breve periodo di tempo prima della morte presso un hotel nei pressi di Perugia Loscano che era un noto ritrovo per convegni di tipo massonico ecco però qui noi con la Ciabani ci stiamo allontanando anche geograficamente e i collegamenti come lei giustamente sta dicendo sono labili sì labili però c'è un altro dato anomalo che si inserisce in questo delitto cioè che a fare l'autopsia venne chiamato inspiegabilmente il dottor il professor Maurri che era lo stesso medico legale che ha fatto le perizie autoptiche su tutte le vittime del mostro e ci fu da quello che mi risulta un tentativo di approccio da parte dei carabinieri del posto che avevano seguito le indagini sulla morte di questa Ciabani quindi i carabinieri del Ragusano con i colleghi di Borgogni Santi a Firenze che erano quelli che direttamente erano sul campo per le indagini sul mostro di Firenze cercò il maresciallo che aveva fatto le indagini in un approccio in particolare con il colonnello dell'amico che era a capo del nucleo investigativo Olinto dell'amico Olinto dell'amico Olinto dell'amico figura che magari dopo andremo un attimo a detenere poi altre vittime collaterali ce ne sono tante ce ne sono tanti inquietanti come Francesco Vinci infatti volevo arrivare qui il bambino un mirco di tre anni allora se con Susanna se con Elisabetta Ciabani ci siamo allontanati ci riavviciniamo invece con dei personaggi che veramente hanno lambito la vicenda del mostro assolutamente perché ricordiamo Francesco Vinci viene a un certo punto sospettato di essere il mostro e arrestato viene scarcerato solo perché durante la carcerazione avviene uno dei delitti e poi una morte molto simile adesso diciamo che morte ha avuto Francesco Vinci la subisce pochi giorni dopo Milva Malatesta col piccolo Mirco di tre anni il figlio è uno degli aspetti ancora più brutali e inquietanti dell'intera vicenda mostro perché muoiono in circostanze assolutamente analoghe a distanza di pochissimi giorni l'uno dai l'uni perché siamo nel 1993 l'8 agosto del 1993 vengono quindi è in corso il processo è in pieno svolgimento il processo di primo grado a carico di Pietro Pacciani Pietro Pacciani in quei giorni era particolarmente nervoso 29 luglio del 1993 viene interrogato in carcere a Sondicciano da Vigna e da Canessa io faccio la cronistoria io faccio la cronistoria Canessa Vigna era il procuratore Capo e Canessa era il ministero storico probabilmente era l'aggiunto che seguiva le indagini sul mostro in particolare era colui che stava sostenendo l'accusa in giudizio nei confronti di Pietro Pacciani Pietro Pacciani particolarmente anche comprensibilmente nervoso visto che il processo non stava prendendo una piega a lui favorevole viene interrogato a fine luglio 29 luglio 1993 e in seguito a quell'interrogatorio succede non so appunto va stabilito se c'è un nesso causale diretto indiretto fatto storico certo è che l'8 agosto 1993 viene ritrovato cadavere carbonizzato e brutalmente torturato Francesco Vinci letteralmente incaprettato e virato e poi incaprettato Francesco Vinci e il suo servo pastore Vargiu in località Chianni provincia di Pisa nel cofano e i due i due cadavere vengono dati alle fiamme vengono bruciati l'autovettura viene bruciata di lì a pochi giorni la notte tra il 19 il 18 e il 19 agosto del 1993 con le stesse identiche modalità vengono brutalmente uccisi Milva Malatesta e il piccolo figlio Mirko di appena tre anni ecco Milva Malatesta come era collegata alla vicenda del mostro Francesco era stato sospettato di essere il mostro all'interno della cosiddetta pista sarda di cui dopo accenniamo e Milva Milva aveva dei legami di frequentazione e per esempio era stata la prima moglie di certo Vincenzo Limongi morto nel 1991 due anni prima anche lui in carcere classificato come suicidio una morte strana perché aveva i piedi che toccavano per terra e soprattutto perché intervenuta il giorno precedente a quello che doveva essere quello della sua scarcerazione Milva Malatesta era un personaggio molto particolare se ascoltiamo la testimonianza poi del fratello Luciano Malatesta che per un periodo ho anche assistito professionalmente era legata a giri molto particolari sin da ragazzina perché frequentava la villa la dimora di uno dei personaggi più enigmatici più enigmatici che era il mago Salvatore Indovino Nomenomen intorno al quale a quella a quella stamberga di via di Faltignano dove era il posto preciso via di Faltignano San Casciano San Casciano di Piesa dove allora di certo c'è perlomeno stando a numerose testimonianze e sul punto credo che insomma anche tutta la letteratura mostrologica sia più o meno d'accordo di certo c'è che lì avvenevano riti strani messe nere o altre cose orge anche che riguardavano e prevedevano purtroppo la partecipazione di bambini in questo contesto Milva Malatesta faceva parte di quel giro era rimasta vittima proveniva da una famiglia disgraziata il padre nel 1980 prima che iniziasse la serie scissoria omiciliaria attribuita al cosiddetto mostro di Firenze era stato ritrovato alla vigilia di Natale impiccato nella stalla della sua abitazione anche qui con i piedi che toccavano per terra anche lì un suicidio anomalo quindi una storia familiare particolarmente pesante con la madre che poi era stata una dei testimoni chiave Maria Antonia sperduto al processo di primo grado contro lo stesso Pacciani tutti personaggi comunque legati da frequentazioni veramente borderline veramente ecco facenti parti di quel mondo dello scuro dedito a pratiche no di tipo satanistico piuttosto che altre cose Milva Malatè stasera in parte affrancata rispetto a questo passato e però all'improvviso subisce una morte terribile brutale e per lo meno in apparenza inspiegabile che riguarda anche il figlio Letto quindi lì qualche domanda qualche domanda sovviene perché questi tre eventi che ho adesso riassunto in senso proprio cronologico interrogatorio di Pacciani in carcere il 29 di luglio Francesco Vinci il servo pastore l'8 agosto Milva Malatesta e il figlio Mirco e anche loro morti Milva Malatesta era morta probabilmente in seguito alle percorse che aveva subito e quando poi l'auto su cui è stata rinvenuta cadavere era stata data le fiamme il piccolo Mirco invece pare che purtroppo ancora fosse in vita nel momento in cui lo hanno attinto le fiamme sono delle morti raccapriccianti che che ancora ancora reclamano giustizia e che soprattutto aprono degli scenari degli scenari molto inquietanti assolutamente anche qui la stop un attimo ci torneremo a questo punto Marcello arriviamo a non sbaglio se lo definisco la rock star di questa oscura vicenda assolutamente ovvero Pietro Pacciani o comunque quello che è stato diciamo indicato come il frontman il colpevole che è stato dato in pasta all'opinione pubblica allora parto dall'avvocato Biscotti abbiamo detto Pacciani è il mostro di Firenze per l'opinione pubblica è stato identificato con questo in carcere condannato eccetera ma ecco come si può inquadrare questa figura e soprattutto questa figura come rientra diciamo nella cornice mostro di Firenze e come rientrano nella cornice e che cosa sono i famosi compagni di merende di cui poi si è parlato a proposito di Pacciani allora innanzitutto ringrazio gli organizzatori di questa serata per l'invito devo fare i complimenti al sindaco e all'assessore perché non ero mai venuto a Vasanello e lo trovo veramente un paese splendido quindi grazie a tutti i cittadini che sono intervenuti ma veramente veramente bello allora mettiamoci tutto quello che avete sentito fino adesso è molto suggestivo molto interessante molto molto importante ma non c'entra niente con il mostro di Firenze ora ci dirà anche chi è il mostro di Firenze attenzione allora io innanzitutto faccio l'avvocato e sono più di 35 anni ho fatto almeno 35 processi di omicidio quindi non ho l'esperienza del dottor Mignini ma certamente qualcosa ho imparato in tutti questi anni per parlare di responsabilità grave in un processo penale ci vogliono le prove ci vogliono prove serie le suggestioni gli accostamenti gli ammiccamenti il non dire e dire rispetto a determinati fatti non sono ipotesi che si possono portare in tribuna partiamo innanzitutto io mi sto occupando di questa vicenda nell'ultimo anno e mezzo quindi non ho la competenza del del dottor Mignini ne ho dell'avvocato Antonioni che sono da più tempo che seguono questa cosa questa storia io mi sto occupando da questa storia perché i familiari di Vanni uno dei condannati condannato all'ergassolo per quattro duplici omicidi i parenti mi hanno chiesto di di procedere alla richiesta di revisione di quel processo quindi è un anno e mezzo che insieme all'avvocato Mazzeo e all'avvocato storico di Vanni insieme all'avvocato Nino Filastò e insieme al consulente Paolo Cocchi ci stiamo occupando di questa di questa storia io qui negli ultimi tempi mi sono sto cercando di informarmi in maniera in maniera laica di questa storia io sono convinto che ci troviamo di fronte anche secondo la più classica letteratura criminologica al classico serial killer serial killer unico serial killer che che agisce con 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 metodi che dico rituali dal suo punto di vista della dinamica dei fatti e questo i fatti lo conferma veniamo a tutto quello che è successo da quando rispondo alla tua domanda rispondo alla sua domanda Pacciani fino diciamo all'ultimo duplice omicidio quindi fino all'85 gli investigatori sono brancolati hanno brancolato nel buio avevano fatto una lista adesso non mi ricordo il numero per individuare il colpevole gli investigatori la procura di Firenze aveva fatto una lista di tutti quelli che in qualche modo avevano avuto condanne di questi tipi che siano violenze violenze sessuali e robe del genere ed è venuta fuori una lista di decine 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 di uomini hanno spulciato hanno tagliato questa lista affinché la persona che è venuta fuori questo Pacciani certamente una persona spregevole perché in passato quando era giovane aveva ammazzato l'amante della sua fidanzia infanzata aveva poi ha passato diversi anni in carcere quando è uscito si era sposato ha fatto due figlie ha violentato le figlie ed è stato condannato ed è andato in galera quindi una persona assolutamente spregevole era una persona perfetta per essere indicata come il mostro di Firenze e così è stato però le prove erano deboli c'è il famoso proiettile trovato nel suo giardino la cosa si basava la sto provocando questo proiettile trovato nel giardino di Pacciani un proiettile che a seguito di una recente consulenza di una recente consulenza è risultato essere artefatto quindi significa che qualcuno ha messo quel proiettile nel orto di Pacciani proprio mentre stavano concludendo le indagini quindi Pacciani sulla base di questo è stato portato a processo voi dovete pensare certamente in primo grado è stato condannato all'ergastolo però poi quando e qui c'è la chiave di tutto secondo me si arriva all'appello dopo che vengono depositate le motivazioni nella sentenza di condanna all'ergastolo di sette duplici omicidi perché del primo quello del 68 Pacciani non è stato condannato vengono depositate le motivazioni e quindi gli avvocati doverosamente fanno l'appello e cosa succede? Succede che già si sa chi presiderà la Corte della Corte d'Assista d'Appello già si sa chi potrebbe essere il procuratore d'udienza del processo d'appello e io sono convinto questa è una mia opinione personale ovviamente sono convinto che in quel momento la Procura della Repubblica parlo di Vigna e Canessa comprendono che probabilmente il processo lo perderà tanto è vero che quando il pubblico ministero in appello fa la sua requisitoria chiede la soluzione di Pacciani con grande scalpore facendo comprendere che era un processo un po' costruito forse troppo a tavoliero nel frattempo prima che inizia il processo adesso vado a memoria ma proprio in quel periodo la Procura della Repubblica nomina Giuttari capo del Sambio della squadra Gidas antimo vostro quella roba lì ancora adesso si della squadra si occupa di questa vicenda inizia a occuparsi di questa vicenda ed è proprio mentre si sta concludendo il processo quantomeno quando il processo d'appello è in fase di conclusione è pronta la cosiddetta lista dei testimoni alfa beta gamma eccetera che viene chiesta dopo che il pubblico ministero della Corte d'appello aveva già chiesto aveva già fatto la sua requisitoria chiedendo la soluzione beh questo è un fatto assolutamente insolito io credo che al dottor Mignini una cosa del genere non è mai accaduta e nemmeno lui l'abbia mai fatta io non l'ho mai sentita fare una cosa del genere questo perché la Procura della Repubblica stava percependo che quel processo lo stava perdendo avrebbe fatto non una bella figura diciamolo in maniera semplice e quindi in qualche modo volevano correre ripari con questi testi alfa beta che erano poi alcuni di loro i compagni di Merendi i cosiddetti compagni di Merendi di cui parleremo dopo il presidente della Corte di Assisti d'Appello rifiutò questa questa richiesta e fece la sua sentenza alla Corte di Assisti d'Appello assolvendo Pacciani è vero poi che la Cassazione procura in Cassazione questa sentenza e la Cassazione disse che in effetti quei testi potevano essere sentiti attenzione non disse che la sentenza era sbagliata da un punto di vista tecnico non disse che però nel senso che quei testi potevano essere sentiti quindi il processo doveva tornare tornare di nuovo in Corte d'Appello però nel frattempo Pacciani muore quindi il processo finisce e arriviamo Pacciani e arriviamo ai compagni di Merende nel frattempo inizia l'istruttoria nei confronti dei compagni di Merende che è un processo i più celebri di loro Vanni e Lotti che sono passati alla storia io vi assicuro vedere un processo a 30 anni di distanza e vedere soprattutto quel processo fa rabbrividire anche uno studente al quarto anno che sta studiando e deve dare sostenere l'esame di procedura penale perché un processo così è una cosa io la ritengo una cosa inaccessibile cioè io non credo che non era un processo serio noi stiamo Giulia e dico quello che penso mi querellassero non ho paura di nessuno sono le opinioni dell'avvocato Biscotti avete capito che ovviamente sono in posizioni assolutamente inconciliabili e per questo è una tavola e per questo che ne abbiamo non ho paura di nessuno ritengo che non i compagni di merende erano microfono uriaconi di paese uriaconi di paese che forbavano i compagni di merende e in particolare Lotti e Pacciani erano i classici beoni di paese dove veramente non non avevano cioè non avevano nessuna possibilità di essere quelli che sono stati discritti nelle sentenze allora e questa cosa mi fa rabbrividire quindi scusami prego prego quindi per questo motivo anche a distanza di 30 anni il mio impegno io ormai ho 65 anni tra un po' vorrei smettere ma prima di smettere prego mi piacerebbe smetta mi piacerebbe lasciare un segno su io sono un appassionato di processi penali ecco il processo penale ai compagni di merende ma anche quello a Pacciani mi fa rabbrividire allora la fermo un attimo e fermo un attimo anche lei perché prima di farle rispondere o comunque puntualizzare alcune cose dette da l'avvocato Biscotti allora arriviamo al punto lei è per il serial killer unico con medito rituale e tutto quanto più o meno quello che diceva anche l'avvocato Filastò anzi l'avvocato Filastò avvocato storico di Vanni diceva sospettava che il vero mostro di Firenze potesse essere un uomo vicino agli ambienti della procura perché in qualche modo anticipava le mosse degli inquirenti o comunque sapeva muoversi molto bene lei pensa la stessa cosa? beh allora la tesi dell'avvocato Lino Filastò è sicuramente una tesi non solo suggestiva ma fondata anche su elementi di fatto perché in alcune ipotesi di omicidio c'è la patente la patente sul tappetino dell'autovettura dei ragazzi uccisi quindi che vuol dire? tutto lascia pensare questa era la tesi di Filastò che qualcuno gli stava chiedendo i documenti i ragazzi li stavano estraendo e il serial killer li ha li ha uccisi e quindi i documenti sono rimasti per terra voglio ricordare che anche il pubblico ministero nel processo d'appello ai compagni di Merende chiese la soluzione non solo ma del testimone oculare Lotti chiese la trasmissione degli atti al pubblico ministero per falsa testimonianza questo è bene ricordare che anche autorevolissimi magistrati che si sono occupati di questo processo hanno ritenuto infondate tutte le storie legate sia prima a Pacciani e sia ai compagni di Merende questo significa che il serial killer unico non c'è nessun custode di fetici e robe del genere questo tra parentesi ritengo che io credo che Nartucci è sicuramente morto in circostanze misteriose è sicuramente morto in circostanze particolari ucciso però non ha niente a che vedere col mostro di Firenze perché non c'è nessuna prova che lo possa collegare al mostro di Firenze così come tutte le vicende legate a fetici massonerie e robe del genere io della massoneria non sono massone non me ne frega niente ritengo ridicolo che della gente si mette lì faccia delle cose è una cosa che non condivido non me ne frega niente però collegare senza prove in questo caso Nartucci che nell'ultimo omicidio era in America a fare i convegni sbagli non lo sbaglio sbagli completamente dammi una prova che Nartucci era in Italia sbagli dammi una prova che Nartucci ci fate ci fate capire ci fate capire una prova avvocato ci fate ci fate capire un attimo di cosa stiamo parlando perché non me ne frega niente di Nartucci ma se Nartucci avvocato in America avvocato avvocato la richiamo all'ordine esatto e tu mi hai chiamato tu non mi devi interiore di farlo la richiamo all'ordine allora a cosa si sta riferendo Biscotti ma lo parla di viaggio in Sud allora Nartucci è andato negli Stati Uniti con certezza nell'81 in corrispondenza coincide del delitto di calenzaro ok questo è questo è andato nell'81 ci sono due delitti sull'85 lui non è stato negli Stati Uniti lo racconta la moglie la moglie è una fonte di prova non importantissima la moglie e altri quattro testimoni la moglie dice lui partì aiutò all'estero a fine settembre ma l'8 settembre era quindi l'avvocato Biscotti ha sbagliato ha sbagliato no ma è ma non è solo quello io volevo aspetta l'avvocato adesso devi lasciare parlare volevo dire questo l'avvocato avrà diritto di controreplica l'avvocato Biscotti mi ha dato sennò mi si arrabbia Marcello cosa? si arrabbia Marcello posso parlare? certo l'avvocato Biscotti mi ha dato che peraltro con cui siamo siamo amici siamo sempre stati non ci siamo mai attaccati però insomma le ali avversari le posizioni sono sono estremamente diverse l'avvocato Biscotti mi ha ricordato l'avvocato Filasto l'avvocato Filasto è un complimento è un complimento no mi ha ricordato ha ricordato l'avvocato Filasto sì e io ricordo una cosa particolare stavo facendo le indagini erano c'era mi pare il processo c'era si discuteva del procedimento relativo al proprio all'omicidio non ai delitti diciamo ai delitti di favoreggiamento e collaterali e mi ricordo che mi vedi Filasto che difendeva difendeva non mi ricordo chi fosse Spezzi non so qualcuno io mi ricordo che parlando con lui io mi resi conto che non sapeva niente del processo non sapeva niente perché questa non te la passo Giuliano questa non te la passo ha un onore me lo disse lui me lo disse lui ti ha mentito cioè me lo disse lui Walter che devo dire devo dire vuoi dire che l'avvocato Filasto non sapeva niente del processo del mostro di Firenze no del processo che stava tra dell'aspetto perugino della vicenda perché non c'entrava niente nel mostro di Firenze questo lo dici tu è una petizione di principio allora io dico dico semplicemente questo io dico semplicemente questo quando io intanto non ho trattato i processi dei compagni di Merenda perché ero 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 in altre ero a Perugia quindi non poi mi sono trovato in questa vicenda e su richiesta della procura di Firenze il 9 novembre 2001 dovetti prendere atto del collegamento di indagini perché Canessa mi scrisse mi disse da questo momento le indagini sono collegate le indagini che stiamo facendo noi sul filone superiore a quello dei compagni di Merenda sono collegate al tuo procedimento e quindi io mi sono trovato inserito in questo contesto perché Firenze procedeva per quello Firenze svolgeva l'attività principale e io ho preso atto di questo non è che legandomi legandomi a tre volevo dire questo volevo dire questo a Perugia quando succedevano questi fatti si pensava a un killer solitario io mi ricordo perché cioè a una persona che non è diciamo non ha pratica di queste vicende si pensa subito al singolo se non che se non che io mi domando io non ho delle verità preconcette come ce l'ha invece l'avvocato Biscotti non ce l'ha e con gli atti lui ha no gli atti li vedo tu ne conosci tu gli atti su Narducci non li conosci perché da come parli si vede che non li conosci ecco perché bisogna che uno dica tu lo sai e allora dimmi una prova che collega Narducci al mostro di Firenze una prova non una suggestione no no verbale riassunzione di informazioni e questo grazie soltanto al dottor Giuliano Mignini giorno 16 giugno anno 2006 viene escussa la signora Agostinucci Gianangela Vedova Mazzini cioè era la vedova dell'ex presidente del tribunale questo della serie caro Walter che Narducci non c'entra niente col mostro di Firenze ma è una delle tante la signora dichiara quindi prova diretta per lo meno nella fase delle indagini preliminari verbale di assunzione di informazioni da parte di teste indifferente un giorno del 1985 mentre io e mio marito ci trovavamo in casa nella nostra abitazione sita in via Oberdano ci venne a fare visita verso le ore 11.30 il commissario dottor Defeo che era già venuto a casa nostra in precedenza a parlare con mio marito di suoi problemi personali nel momento in cui i due stavano per uscire cioè Defeo e l'accompagnatore il dottor Defeo che appariva turbato disse a mio marito e soprattutto a me che le avevamo accompagnate alla porta queste testuali parole mi scuso per il ritardo ma stamattina siamo dovuti andare a Firenze a fare una ispezione nell'appartamento privato del dottor Narducci dove abbiamo rinvenuto reperti umani femminili raccapriccianti dove sono? qualcuno questa non è una prova le hanno fatti sparire basta di fare il tuo show basta la tesi del serial killer unico sul mosto di Firenze è antistorica ma non siamo al bar non siamo al bar non sono questi reperti che sono stati scoperti li hanno fatti sparire ma se io vado in tribunale a difendere un cliente così mi sembra che abbia giunto ma scherziamo ma non scherziamo ma non scherziamo allora questo che ha detto cazzo ma non lo so non lo so se ci sono i reperti se non lo sai non devi no io so per esperienza che se uno vi richiamo un attimo ma non diciamo stupidà allora allora pausa un attimo pausa un attimo facciamo una pausa facciamo una pausa allora dovete sapere faccio un piccolo intermezzo così ci calmiamo anche dovete sapere che noi un po' di tempo fa noi con Gianluca e Andrea ragionavamo di fare un format nuovo di Dark Side cioè Dark Side Match la gabbia la gabbia cioè delle persone che si confrontavano partendo da posizioni opposte ecco voi stasera state assistendo a una puntata pilota di Dark Side Match allora no 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 sì però poi dovete mettere le palline sulla bilancia per vedere chi ha avvocato non è forum avvocato allora ovviamente ovviamente faccio un attimo anche io un intervento dicendo che tutti i tre ospiti che vedete qui sul divano e che vedranno gli spettatori poi nella registrazione godono della nostra massima stima assolutamente in quanto tutti grandi professionisti incondizionatamente siamo realmente interessati al lavoro che hanno svolto e ai loro punti di vista sappiamo che siete anche amici nel privato erano forse erano dopo stasera noi erano noi stiamo cercando tutte le volte quando ci incontriamo al bar a Perugia cerchiamo di evitare di parlare di questa roba ma se no noi stiamo cercando io e Marcello ovviamente come quasi sempre di far trasparire quelle che sono le nostre convinzioni le nostre idee riguardo a questi argomenti e ci sembrava proprio per questo interessante questa sera portare le due anime di questa vicenda perché ce ne sarebbero molte altre e magari faremo altri approfondimenti però a questo punto torno dall'avvocato ok finisca poi ho una domanda per voi io dico questo nessuno di noi era presente nei luoghi dei delitti nel momento in cui venivano compiuti i delitti né io né lui sicuramente a meno che adesso qualcuno dal pubblico non ci studisce quindi quello che è successo quello che è successo in quel momento va ricostruito sulla base degli elementi prove sulla base anche delle deduzioni che si possono fare perché secondo un criterio logico allora io dico questo dico questo microfono l'assassino mettiamo che è un silvolo l'assassino deve andare cercare il post io sono stato in quei posti e vi assicuro che la notte non si vede niente non si vede niente sono sono posti che sono c'è un'oscurità ora figuriamoci all'epoca quindi questo questo disgraziato diciamo pure doveva andare disgraziato doveva andare lì trovare le coppiette poi senza essere assistito da nessuno che gli facesse da palo perché normalmente uno dice sta attento se passa qualcuno no non c'era nessuno era sicuro era solo lui prende ammazza ammazza il maschio poi prende la la donna la porta fuori la e deve compiere le scissioni chi illumina la scena del delitto non c'è nessuno lo deve fare da solo e da solo in quell'oscurità è un po' difficile è un po' difficile senza ripeto essere assistito da nessuno che lo aiuti che lo aiuti lo metta in allarme se arriva qualcuno perché qualcuno poteva passare delitto di Baccaiano senta però le posso questa non è una una provocazione ma più che altro una domanda però sarebbe un unicum nella storia del delitti seriali il fatto di un gruppo che interviene a supporto c'erano i Chicago Rippers magari sto sbagliando c'era i Chicago Rippers che era un gruppo di persone che praticavano uccisioni con anche credo con mutilazioni era un gruppo che era in quegli anni 80 negli Stati Uniti quindi cioè voglio dire non conoscevo Chicago Rippers per cui questo io non si possono fare le indagini con degli assiomi di tipo quasi teologico perché mi sembra mi sembra quando si parla Walter lo chiamo Walter e ci diamo del tuo mi sembra lui ha un atteggiamento fideistico dice allora le cose sono andate così e devono essere andate così e allora trovo tutti gli elementi che mi servono per perché questo è il contrario io 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 non avevo io non avevo quando ho iniziato le indagini non avevo questa sicurezza vediamo come andava allora io qui adesso devo necessariamente mi dovete fare un attimo prima cosa lui il discorso massonico adesso devo lavorare a lui il discorso massonico allora non è un discorso qui campato per aria la vittima era massone il bampo era massone parliamo di Narducci di Narducci di Narducci in sede di commissione parlamentare antimafia nel 2022 eh 2020 14 luglio 2022 il gran maestro l'ex gran maestro Giuliano Di Bernardo che mi ha fatto i complimenti non avevo mai ricevuto complimenti da un gran maestro massone devo dire lui ha ha confermato in pieno che questa vicenda deve essere retta con questo con questa presenza massonica e lui aveva ricevuto l'assicurazione da un massone fiorentino che gli avrebbe spiegato tutto di questo medico perugino ecco allora parlando restando un attimo sulla questione perugina e restando anche nell'ambito del vostro lavoro in commissione che si è concluso con la passata legislatura e voi avete avuto l'occasione di interrogare in carcere Angelo Izzo pausa me ne vado me ne vado se dobbiamo parlare di Izzo e dare credito me ne vado e soprattutto un filone che voi avete anche seguito collegandolo al filone perugino che poi se c'è un collegamento o meno con il nostro di Firenze lui non è d'accordo voi invece si ma questo fa parte della discussione avete anche esplorato i collegamenti tra Narducci e l'ambiente dell'estrema destra romana e la sparizione di diverse ragazze tra cui Rossella Corazzina forse la più nota e Izzo nel raccontare i suoi rapporti avuti con Narducci e con l'ambiente perugino ha dato dei riscontri piuttosto so se posso dirlo perché io ero ma vorrei sentire anche l'avvocato ma lui non c'era ma non su questo io su no sì io volevo intervenire sul discorso del Zerio Achilleruri sul discorso Izzo posso parlare perché ero l'unico che l'ha ascoltato ero eravamo nel carcere di vicino a Roma di Vellettri mi pare e lui ha è stato interrogato e ha fornito una serie di elementi ora una delle cose che mi hanno colpito di più Walter non può dire niente perché non c'era no fatemi parlare dopo no no non c'era e non ha e non c'era soprattutto non ha visto non ha visto la villa dei Narducci a San Feliciano sicuramente mentre io l'ho vista sono stato due volte con Canessa lui ha descritto a parte ha detto che conosceva Narducci eccetera ha descritto la villa dei Narducci a San Feliciano dove sarebbe stato compiuto questo delitto quello di Rossella Corazzini di Rossella Corazzini in maniera io sono rimasto colpito perché l'ha descritto in maniera in maniera pressoché perfetta e non poteva averlo visto da nessuna parte perché non è stato proiettato non è stato era una casa privata non era non era stato oggetto di riprese quindi primo punto secondo punto secondo punto lui ha ha detto che il personaggio il Narducci faceva parte lui e Izzo anche facevano parte di una una sorta di setta che si chiama la setta dei nove angoli che è una setta neonazista l'ordine dei nove angoli inglese di cui nessuno aveva finora parlato nemmeno la famosa signora Carlizzi che che era stata bersagliata in parte giustamente da molti avvocati non solo avvocati nessuno aveva parlato di questo avevano parlato della rosa rossa l'unico l'unico riferimento a un ambiente di setta era la rosa rossa ma la setta dei nove angoli non aveva della setta dei nove angoli non ne aveva parlato nessuno per cui andiamoci poi può darsi vanno vanno valutate queste queste affermazioni vanno valutate il lavoro della commissione si è interrotto per la fine anticipata della legislatura e quindi però prima di prima di parlare alla alabisconti cioè di fare il discorso il discorso diciamo teologico bisogna fare un discorso di tipologico però lei lo sta provocando lo sta provocando io proprio sinteticamente volevo tornare un attimo in maniera spero più pagata possibile per per smontare la tesi una volta per tutte e realizzare killer unico allora io posso essere d'accordo con il collega Walter Biscotti sul rivedere sebbene il compito che lo attende non è dei più facili la posizione eventualmente di Vanni come collocato in quei delitti quello su cui io personalmente dalla luce di tutti i studi che ho fatto documentati ritengo una tesi assolutamente anacronistica è quella che Mostri Firenze sia un serial killer unico e mi sovvengono alcune evidenze documentali la prima tra tutte è l'intercettazione risalente se non ricordo male perché ormai parlo di qualche tempo fa di giugno del 1981 tra Fosco Fabri e Dino Spalletti che erano costoro va spiegato al grande pubblico Fosco Fabri era uno dei due guardoni che fu fermato fu individuato nell'imminenza del delitto del 6 giugno 81 a Calenzano venne fermato perché sospettato insieme ad Enzo Spalletti che poi venne arrestato con l'accusa da prima di falsa testimonianza e poi proprio di essere l'autore materiale dei delitti venne interrogato dalla polizia e successivamente venne intercettato in un colloquio registrato a verbale con Dino Spalletti il fratello il fratello di Enzo Spalletti Dino Spalletti che era in quel momento ristretto in carcere nel corso di quella lunghissima telefonata che è stata trascritta Dino Spalletti chiede a Fosco Fabri che era amico del fratello di intervenire in qualche maniera e dice che vuoi che faccia lui ha fatto una cavolata perché doveva contenersi in una certa maniera va da braccio con il ricordo di quella di quelle intercettazioni e Fosco Fabri fa un riferimento diretto quindi siamo già a giugno del 1981 con riferimento al delitto precedente quindi rabatta 1974 dove dice ma guarda che anche lì quelli che erano stati chi vuoi che li vada a cercare e fa riferimento a mostri al plurale e stiamo parlando di un guardone che era capo delle piazzole dei guardoni che era testimone oculare diretto dello scempio avvenuto a Travalle di Mosciano scusate a Mosciano di Scandici il 6 giugno del 1981 poi sovviene l'esame delle scene del crimine per sì sì quella l'intercettazione tra Lotti giustamente il dottor Miglini mi ricorda l'intercettazione tra Lotti e il sacerdote di riferimento al suo padre spirituale Lotti non sapeva di essere intercettato e fa riferimento alle vicissitudini era sotto pressione da parte della squadra mobile con gli interrogatori e Lotti si difende col sacerdote e dice beh ma fatto io ho parlato di quello che loro sanno perché se no per parlare qui si ne deve parlare di tanti riferito a quelli direttamente coinvolti nelle vicende del mostro ma basta poi un semplice esame delle scene del crimine per smentire la tesi del serial killer unico una su tutte Calenzano 22 ottobre 1981 se uno ha lo stomaco sufficientemente pesante per andare a vedere le foto della povera Susanna Cambi si rende conto che lì la mano escissoria è duplice perché nella regione sovrapubica c'è un tipo di escissione regolare nella regione sottostante invece è stata fatta in maniera assolutamente brutale e potrei continuare con numerosi altri esempi concludo sul punto riferendo a una cosa che probabilmente il collega Biscotti non conosce sempre per merito del dottor Mignini verbale di assunzione di informazioni 29 aprile 2006 fatto dal dottor Mignini nell'ambito dell'indagine sulla morte di Narducci al dottor Giulio Mastroianni che era all'epoca direttore del Corriere dell'Umbria tralascio tutto dice che era in contatto a Firenze con Roberto Chiodi un collega della giudiziaria che credo all'epoca lavorasse al quotidiano della Repubblica e comunque seguiva per lavoro la vicenda del mostro tra le altre cose dice tutto lungo il verbale dice cito Mastroianni sempre secondo quanto detto mi dai Chiodi i magistrati fiorentini ritenevano che i delitti fossero opera di un gruppo di persone e non di un serial killer solitario si parlava anche di pedofili e di guardoni allora un attimo io direi siccome a un certo punto ci dobbiamo avviare a conclusione ma c'è un argomento che vorrei trattare chiedendo a tutti voi la vostra opinione ti chiedo Walter di fare un intervento no no perché allora io non le do la parola no veramente cerchiamo di non aprire un altro putiferio prego 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 è un pagatezza vorrei arrivare alla pista sarda in modo molto te la dico io no no te la dico io la pista sarda allora andiamo direttamente alla pista sarda un attimo prima devo ripetere prima poi ti dico com'è nata la pista sarda quanto è difficile lei è un'altra è un'altra cavolata è un'altra cavolata sono tutti d'accordo sulla pista sarda quindi secondo me secondo me siccome non c'è dibattito sulla pista sarda la saltiamo no no innanzitutto devo dire una cosa prego prego allora se no non usciamo prego dico le cose che secondo me possono essere anche non tutti conoscono la vicenda quindi al microfono però non tutti sanno Lotti Lotti è il testimone oculare di cui stava parlando il collega Antognoni sia Minini che le colleghe Antognoni Lotti che ha preso vent'anni perché pensava di essere il testimone la star di questo processo non so quanti anni è stato condannato 26 dice il collega Antognoni mi sembra 20 comunque non lo so però detto questo non sono d'accordo neanche su questo avete presente avete presente un piccolo paese dove la gente spesso le persone un pochettino in lago gli anni si trovano al bar a giocare a 3-7 ecco questi erano Lotti i Vanni questi giocavano a 3-7 bevevano chiacchieravano quando c'era Vanni si racconta questo è stato detto e scritto gli dicevano guardate che guarda che sono arrivati i marziani al campo sportivo hanno arrivato l'astronave e quello Lotti andava a vedere se era davvero arrivata l'astronave questo era Lotti va bene che è la figura cardine del processo ai compagni di merende cioè il testimone oculare va bene questo è Lotti Beone di paese e quindi sfido qualunque pubblico ministero a oggi a fare un processo così come è stato fatto con le compagnie di merende devo dire una cosa su Itzo alzi la mano chissà chi è Itzo ecco quindi non ho capito che cosa chiesti alzi la mano chi sa chi è Angelo Itzo quando era giusto per capire il personaggio quando era un ragazzotto ha ammazzato una ragazza che se l'era portata delitto del Circeo del Circeo ha scontato tanti anni di carcere ne ha ammazzato altre due ne ha ammazzato altre due ritenevano che si era ravveduto è uscito è ammazzato un'altra signora con la figlia 13 anni se non ho sbaglio esso è tornato in galera voi dovete sapere che chi sta 30-40 anni in galera sa i c***i di tutta Italia i fatti diciamo sa i fatti di tutta Italia perché sente quello sente quell'altro sente quella e lui è un sistema in magazzino voi leggerete che tante volte si sente il pubblico ministero qui me lo può confermare che gli arrivano lettere arrivano anche gli avvocati guardi che io so chi è stato quello perché io so vi posso dire allora vuole essere sentito si fa il viaggetto si fa la cosa poi arriva lì e sono tutte tutte stupidaggini mettiamo tutte stupidaggini come morigerato l'avvocato o izzo io sfido qualunque pubblico ministero sano di mente che possa impostare un processo penale sulle dichiarazioni di izzo quindi quello che ha detto qui si parlava dell'attività di una commissione si ma peggio me sento peggio me sento cioè ascoltare ascoltare impegnare una commissione parlamentare pubblica ad ascoltare uno come izzo come izzo è una perdita di tempo perché nessuno qualunque 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 informazione qualunque atto tu puoi raccogliere da uno come izzo non può andare in giudizio perché nessun nessun pubblico ministero sano di mente può impostare no nessun pubblico ministero sano di mente può impostare un processo sulla dichiarazione di izzo sostenere nel 2024 andiamo avanti veniamo la pista sarda in Firenze equivale a dire quello che diceva con dove siamo arrivati non ho capito nel 1988 a margine di un convegno ovvero la mafia non esiste ma Andrea Purgatori Andrea Purgatori che ha risposto Andrea Purgatori allora adesso pace all'anima uno degli ultimi atti in terra di Andrea Purgatori è stato notevole è stato quello di toglierti la parola no se mi parli di Purgatori visto che mi ha tolto la parola e sono l'unico a cui ha tolto la parola Purgatori tu hai parlato no perché ho sentito e l'onore e mezza di queste cose ci abbiamo a conclusione con mi ha tolto la parola mi ha tolto la parola e vabbè ora litigano anche su Purgatori dobbiamo fare allora adesso adesso dobbiamo fare scusate adesso dobbiamo fare come gli arbitri della box in distanza esatto distanza allora come è nata la pista sarda proseguiamo devo dire sei d'accordo ma allora la pista sarda ci arriviamo velocemente concludiamo con la pista sarda anzi ragazzi esatto vi prego ordine spengo i microfoni posso ordine un attimo ordine ordine allora spostate se no non vedo allora e vi siete divertiti stasera esatto stasera vi siete divertiti esatto avete capito che l'argomento di Firenze è molto caldo allora esatto perché insisto sulla pista sarda tanto perché personalmente mi ha sempre molto affascinato e perché il vario titolo coinvolge tutti e tre gli ospiti il dottor Minnini perché ha fatto arrestare fondamentalmente il maggiore propugnatore di questa pista che era il giornalista Mario Spezzi sì no no certo adesso ci arriviamo al perché esatto ok noi abbiamo avuto ospite anche ad Agra Sprezzo con Mario Spezzi ha scritto dolci colline di sangue e invece la pista sarda è importante anche per l'ipotesi di un eventuale serial killer vicino all'ambiente delle procure perché è importante capire come si arriva non devi dire ambiente delle procure ambiente investitivo del palazzo di palazzo è importante no perché è importante capire come se vuoi te lo spiego se vuoi te lo spiego signori signori per favore se no non capiscono non si capisce quello che stiamo di cui stiamo parlando allora è importante capire come si arriva alla pista sarda quando è che emerge la pista sarda in cui è coinvolto Francesco Vinci Salvatore Antonio una famiglia è una pista che viene da lontano allora io chiederei con ordine e con disciplina esatto a Walter Biscotti di spiegare come si arriva alla pista come si arriva alla pista sarda nell'82 nell'82 poi le chiedo di lasciare il microfono e lasciamo la parola al dottor Mignini prego inizio come si arriva alla pista sarda è una mia opinione sulla base dei fatti accaduti prego nel 1912 1982 c'è l'ennesimo duplice omicidio però in questo caso il ragazzo in qualche modo per il mostro di Firenze riesce difficile ucciderlo quindi lui riesce addirittura a scappare sembra quasi ferito adesso la faccio corta e cosa succede? succede che nel frattempo quando il mostro si allontana perché cerca di andare via con la macchina e roba del genere comunque sta di fatto che il ragazzo che il mostro pensava che fosse fosse morto in realtà arriva l'ambulanza e lo porta all'ospedale lo porta all'ospedale Mainardi mi sembra che si chiamava vero? lo porta all'ospedale e muore la dottoressa della Monica che stava indagando dice facciamo credere che durante il tragitto con l'ambulanza ha parlato il ragazzo e quindi dice questa cosa a tutti i cronisti e quindi tutta la stampa parla che questo Mainardi prima di morire ha parlato con Mainardi ha parlato con quello allegrante che guidava l'ambulanza succede che il mostro si si allarma non solo arrivano telefonate addirittura spacciandosi per funzionari della procura che chiedono di sapere qualcosa e roba del genere ma succede una cosa molto anomala succede che viene fuori non si è ancora capito come scusate se sbaglio sono d'accordo non si è ancora capito come non si è ancora capito come che qualcuno si ricorda si ricorda che nel 68 ci fu un duplice omicidio e i proiettili erano gli stessi arriva una lettera se non sbaglio no ne è detto ne è detto perché non si sa se c'era una lettera non si capisce non si capisce quindi cosa succede viene fuori che qualcuno si ricorda che in un duplice omicidio del 68 c'era gli stessi proiettili H serie H Calibre eccetera Calibre 22 Winchester mi serve se si parla dei proiettili io l'ho appurato quella cosa è diverso è diverso detto questo detto questo vanno a cercare il fascicolo preso atto che c'è questo ricordo vanno a vedere vanno a cercare questo fascicolo cercano questo fascicolo si pensava che era Perugia che era andato transitato per Perugia e poi per ragioni di competenza poi in qualche modo era ritornato a Firenze e la cosa sbalorditiva che in questo fascicolo trovano la busta pinzata con quattro proiettili Winchester eccetera eccetera identici a quelli di tutti gli altri e io io non l'ho mai visto dottor Mignini nemmeno nemmeno l'avvocato Antonioni ma è impensabile che un reperto così importante possa essere pinzato alla copertina del fascicolo sul fascicolo già definito sul fascicolo già definito quindi quindi questa è la cosa impensabile non era un delitto risolto era un delitto per cui era stato condannato quindi il Mele Stefano Mele era stato condannato quindi cosa succede succede e lì nasce allora bisogna vedere ma erano stati i sardi perché questo omicidio nasce in un contesto della comunità sarda praticata in Toscana e quindi da lì nasce la cosiddetta pista sarda e nel diritto del 68 se non sbaglio aveva indagato una persona che prima abbiamo citato aveva indagato anche dell'amico se non sbaglio olinto dell'amico che si scoprirà anni dopo essere un rifiutatore del sismi che faceva capo a Federico Mannucci Benincana capocentro sismi a Firenze preso atto di questa assoluta straordinarietà e singolarità della busta pinzata alla copertina del fascicolo che contemporanea alla preoccupazione del mostro che alleganti cioè l'ambulanziere possa aver ascoltato quello che ha detto Mainardi mentre moriva la coincidenza è formidabile e riesce perché da allora in poi tutta l'attenzione si sposta sui sardi aggiungo un dettaglio che era iniziato l'impistaggio o depistaggio sui sardi col far rinvenire proprio nella piazzola di Baccaiano di Montespertori dove è avvenuto il duplice omicidio Mainardi Migliorini di un flacone vuoto del farmaco Norzetam che era quello che abitualmente usava Francesco Vinci il quale Francesco Vinci probabilmente avvertito da qualcuno o ha fiutato l'aria in quegli stessi giorni immediatamente successivi al duplice d'elite di Baccaiano scappa e infratta la propria autovettura nelle campagne maremmane probabilmente ospite di qualche suo corregionale latitante e lì viene tratto in arresto con l'accusa di essere il mostro di Firenze quindi dal mio prego hai finito perché prego prego allora io volevo dire questo su questa vicenda siamo perfettamente d'accordo nulla a questo però bisogna che uno poi tracca delle conclusioni perché io non ho mai visto questo quando lessi questo ricordo di questo maresciallo fiori che diciamo ha sempre difeso strenuamente questa questa sua tesi nonostante le smentite spezzi che dice che c'era un trafiletto di giornale in cui in cui si parlavate andate a cercare c'era scritto andate a cercare a Perugia perché poi sembrava che il fascicolo fosse dal giudice di rinvio invece era tornato a Firenze andate a cercare se volete trovare la soluzione e la guarda caso ma guarda caso i proiettili che si 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 sosteneva che fossero gli stessi ed erano gli stessi ce li avranno messi dopo probabilmente di quelli dei delitti successivi erano spillati io non l'ho mai visto con la spillatrice in un sacchetto in plastica a un fascicolo per omicidio definito definito io di questa cosa io ne ho parlato nella requisitoria ho detto non è credibile ne ha parlato Giuttari non ne ha parlato nessun altro ed è una cosa incredibile io a questa storia non ci credo questa è stata questo è stato il primo depistaggio della vicenda del mostro il primo e più grande depistaggio secondo lei è stato messo in atto da chi? allora non lo so ovviamente una sua opinione da chi aveva interesse mi fate finire se no qui è una parte e l'altra allora io devo dire questo io non lo so ma certo è qualcuno probabilmente forse legato alle forze di polizia o carabinieri forse più i carabinieri in questo caso questa è una sua ovviamente deduzione sì forse perché in quel momento il discorso della pista sarda se ne interessavano i carabinieri non la polizia e i carabinieri i carabinieri questo lo sono questo è vero e quindi qualcuno che aveva accesso alle cancellerie che aveva accesso all'ufficio all'ufficio corpi di reato delle cancellerie ma una cosa del genere era un fatto criminoso cioè lasciare proiettili e incustoditi e non non farli farli passare attraverso la trafila ordinaria con fischia e distruzione lasciare questi proiettili in un fascicolo così in una cancelleria che poteva essere manipolato da chiunque era un fatto criminoso e comunque passibile di procedimento disciplinare quindi si a carico del personale di cancelleria volevo aggiungere un'altra cosa se non è stato il mostro a farlo è stato qualcuno che doveva coprire l'ultima cosa io sono stato contattato dal figlio di Dell'Amico Olinto Dell'Amico Olinto Dell'Amico che comandava il nucleo investigativo della casera del comando gruppo carabinieri di Borgo Gnissanti il quale ha parlato con me ha scritto un libro in cui conferma il coinvolgimento del Narducci quantomeno nel delitto di Scandicci perché rivelato di Dal Padre evidentemente ovviamente su questa storia dei proiettili lui sa rabbia minaccia acquereghe eccetera perché ci andava di mezzo sicuramente in questa in questa in queste in queste indagini su questa tenuta di un'arma di corpi di reato ci andava di mezzo poteva andarci di mezzo il padre per cui questa storia è una storia gravissima e mi stupisco che nessuno io l'ho detto l'ho citato nella requisitoria l'ho detto nella requisitoria e l'ha detto il dottor Giuttari solo noi due l'abbiamo detto gli altri almeno che io sappia non l'ha detto nessuno non so se sbaglio ecco allora perché poi sicuramente qualche domanda dal punto ci sarà è chiaro che questa è veramente un fatto emblematico quello dell'avvio della pista sarda perché sono due le cose o è stato il mostro o qualcuno che doveva coprire il mostro e questo è importante perché io voglio sollevare da ogni a mio giudizio responsabilità personale di cancelleria poliziotti carabinieri e robe del genere io sono convinto che così come era la tesi di Nino Filastò che il mostro certamente aveva possibilità di vicinanza diciamo e questo l'abbiamo detto e no e questo può guarda io te lo dico per esperienza se io domani mattina adesso mi dico una cosa spero che nessuno mi guarelli ma voglio andare a vedere un fascicolo e metterci un foglio io non credo che sia una cosa che poi di questi tempi direste cose soprattutto in ambito non è colpa di nessuno non è colpa di nessuno a Perugia in quegli anni che io ricordi c'erano procedimenti per che riguardavano corpi di reato che vedevano erano scomparsi allora però senza che ci senza che ci ne riepichiamo su sentieri che ci competono una risposta secca tutti e tre esatto secondo me sarà mai possibile arrivare alla verità sui delitti del mostro io rispondo con le parole dello scrittore notissimo Carlo Lucarelli che paura no no quello lì sì sì lui lui che interrogato proprio con la stessa identica domanda diceva che a suo giudizio forse potevano passare anni e si sarebbe raggiunta una verità totale o parziale su fatti anche estremamente gravi come la strage di Ustica e la strage di Bologna ma che sul mostro di Firenze non si sarebbe mai raggiunta io condivido ad oggi 22 marzo del 2024 lo stesso pessimismo di Carlo Lucarelli bene Dottor Minini io sono per natura non sono pessimista quindi non si potrà mai dire non me la sento di escludere niente dico soltanto che in tutti questi anni sono stati tanti tentativi tante operazioni di depistaggio tante e una lascio potrei citare il caso anche di Spezzi che cercava di far rinvenire nella villa Bibbiani di Capraia e Limite degli oggetti provenienti dai delitti con cui accusare Antonio Vinci che era stato che era il nipote di Francesco Vinci e figlio di Salvatore Vinci figlio di Salvatore e che era stato accusato si sono andati a trovarlo a casa sua Mario Spezzi e Douglas Preston scrittori americano e gli hanno detto ma lei sa che potrebbe essere accusato di essere il vostro di Firenze e lui con la calata sarda che lo caratterizzava gli diceva guardi che a me le donne piacciono intere non a pezzi Walter ci sarà mai una soluccia da questo mistero? Allora innanzitutto quello che sarà il mio impegno mio insieme a quello dell'avvocato Mazzeo e del nostro consulente Cocchi e di altri collaboratori è quello di far cadere il processo le accuse a Vanni e la condanna di Vanni con la revisione e quindi se cade se si accede a queste ipotesi viene giù tutto quindi tutti i 50 anni di processi noi abbiamo un'idea quando gli investigatori fecero una lista di quelli che potevano essere sospettati trascurarono il rapporto della stazione dei carbinieri della stazione di San Lore Borgo San Lorenzo che avevano fatto un rapporto dicendo guardate che per queste considerazioni per quello che è successo a questo signore questo quello ha fatto quello che ha fatto secondo noi è il mostro di Firenze completamente tagliato fuori dalla famosa lista questo nome quello che non sceglie intanto questo no no sappiamo chi è ci stiamo lavorando ma questo è un altro discorso è un altro discorso vabbè che non ce lo dice il nome non posso quindi c'è praticamente c'è un un mostro di Firenze 4.0 no c'è un ipotesi che non è stata valutata con attenzione che merita di essere valutata se arriviamo a pensare che può essere stato Calamandrei Vigilanti Narducci robe del genere non ho finito non ho finito non ho finito detto questo il processo penale non è per forza ciò o le inchieste o i verbali quello che è la verità la verità può essere tranquillamente da un'altra parte il collega prima ha citato Bologna Ustica voi pensate che Bologna è Ustica le sentenze le sentenze hanno detto la verità quella del 2021 di Bologna su Ciavardini sì 1300 pagine mirabili scritte dal presidente Leone assolutamente signori non usciamo fuori tema quello che ascoltate dai processi penali ma perché poi ci diranno su youtube ma li avete bloccati mentre parlavano di Bologna carità allora è stata una serata frizzante a questo punto molto frizzante non possiamo non chiedere se ci sono domande dal pubblico però come dico sempre fate delle domande non degli interventi non delle riflessioni li togliamo brutalmente la parola esatto non mi avete fatto parlare ci dispiace buonasera grazie per l'intervento e per la serata io ho una domanda se a tutti e tre la rivolgo sperando di non creare ulteriori divise se siamo tutti d'accordo nel poter non dico affermare perché per quello serve una sentenza ma nel credere fermamente che non possa essere stato Pietro Pacciani alla luce del fatto che ci sono stati vari depistaggi e credo che il network di Pacciani non potesse mai arrivare così in alto nei palazzi per mettere in piedi questi depistaggi e per la modalità in cui è morto Pacciani avendogli somministrato un farmaco che era contro la sua come dire malattia cartiana contro la sua patologia su Pacciani il discorso è lungo però cerco di essere estremamente sintesi risposte brevi allora sicuramente una parte di ragione ce l'ha il collega Biscotti quando dice che era il mostro perfetto e che quel processo di primo grado sia stato tutt'altro che specchiato nel rispetto delle regole della procedura penale assolutamente d'accordo su Pacciani quello che inquieta è il fatto di come sia stato avvicinato proprio già nel corso del processo da certi ambienti è stato avvicinato da Bruno che era un funzionario dei servizi segreti il criminologo il criminologo Francesco Bruno di recente scomparso e diciamo che tutto tutto quello che ha circondato Pacciani comunque è sempre stato molto avvolto nel mistero non ultima la morte lo diceva bene il nostro amico perché lui è morto il 21 di febbraio del 1998 in circostanze tutt'altro che chiarite e che non si è trattato di morte naturale a quello perlomeno che aveva ricostruito il dottor Giuttari con le indagini che aveva fatto ma gli era stato somministrato un farmaco che era fortemente controindicato rispetto alle patologie di cui Pacciani soffriva c'è più di un'ombra c'è più di un'ombra su Pacciani c'è più di un'ombra anche sul suo eventuale sottolineo eventuale eventuale ruolo nella serie omicidiaria attribuita al mostro sicuro non poteva essere da solo perché è evidente le evidenze parlano di delitti di gruppo allora l'avvocato Biscotti già ci ha detto come la pensa vuole aggiungere qualcosa ok prego lei dottor Minghini ma io io su Pacciani io non ho indagato su Pacciani quindi mi ricordo soltanto che l'avvocato Fioravanti con cui che è stato sentito da noi con cui abbiamo avuto contatti numerosi contatti mi diceva sempre mi diceva sempre che Pacciani per difendersi non mi ricordo in quale momento soprattutto del processo diceva sempre indagate sulla morte del medico perugino perché quella morte va a mio vantaggio cioè lui diceva perché non avete indagato su quella morte invece di indagare su di me esatto 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 quindi questo per quanto riguarda Pacciani io al più al più lo faccio custode del piazzone al più allora sia il processo Pacciani e sia il processo dei compagni di merende che sono naturalmente e anche effettivamente collegati perché quando si chiude il processo d'appello a Pacciani di fatto inizia le indagini a quello dei compagni di merende siamo in anni complicati non partiamo non prendiamo no 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 adesso dico delle cose forse un po' forti e me ne assumo la responsabilità di quello che dico sono anni complicati soprattutto a Firenze ci sono stati le stragi di mafia mi sembra nel 93 93 quindi c'è un procuratore bravissimo importantissimo che in ascesa da lì a poco diventerà procuratore nazionale antimafia sta facendo un'inchiesta importante sulle stragi di mafia a Firenze per la prima volta la mafia agisce fuori dalla Sicilia in maniera così importante faccio una nota soltanto stiamo parlando l'avvocato Bisogna stiamo parlando di Pierluigi Viglia certo è pensabile che un procuratore così importante lasci indietro otto duplici omicidi cioè lei sta dicendo che è pesante è una cosa pesante era un po' sbatti il mostro in prima pagina se ne assume la responsabilità di quello che dico no ma perché in assoluta guardate che anche i pubblici ministeri si affezionano alle loro tesi alle loro inchieste non pensate che sono soltanto gli avvocati che difendendo i propri clienti camminano anche sulle acque quindi io sono convinto nell'assoluta buona fede di tutti che in quel periodo no 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 buona fede significa anche che voglio portare alla fine un processo credo credo che quel processo debba essere finito credo che quelli sono i colpevoli costruisco un processo che oggi a distanza di 30 anni sono processi che fanno sorridere io dico che se chiunque ha fatto le inchieste che sia giuttere che siano non mi interessa ma quei processi sono processi che gridano vendetta da un punto di vista della procedura penale della procedura penale non importa se ci sono le sentenze credo che abbia risposto non è solo sulle sentenze che si scrive la storia Giuliano la storia si scrive anche con le sentenze ma scusa allora erano con queste affermazioni eh ma io dico quello da pensare Gian Piero Vigilanti ah Federico Manucci ben in casa l'abbiamo citato prima capocentro Sismi di Firenze e AIS si cosa ne pensate tipo a me i primi prendi io posso dire che è stato trovato un arsenale eh quello la notizia è è pubblica quindi che era nella sua nella sua disponibilità per cui c'è una una struttura faceva parte del controspionaggio di Firenze l'Italia eh con la sua posizione di confine con la cortina di ferro si è trovata coinvolta in tutta una serie di situazioni come come la stay behind tra l'altro nel in questo deposito c'erano anche eh roba di di bricchette rossi in realtà in realtà non era era un appartamento dall'attività dall'attività della commissione antimafia è venuto fuori un aspetto della vita di questo medico di questo personaggio che io che non era emerso durante le indagini e cioè il suo coinvolgimento in ambienti della destra eversiva e quindi della di quella struttura militare che stava dietro la destra eversiva sappiamo che eh per esempio la cellula la cellula veneta di ordine nuovo era era legata agli ambienti ambienti americani ambienti della Nato anche perché questo è un discorso purtroppo che che va fatto per cui questo questo discorso di mannucci bene in casa e quindi il depistaggio sul è venuto fuori rientrerebbe in un'ottica di strategia della tensione se dovessimo è venuto fuori se dovessimo parlare di un coinvolgimento del sismi questo questo è difficile bisogna bisogna approfondire questi lavori della commissione io l'ho detto lo ripeto io questo questo aspetto non l'avevo non mi era emerso a suo tempo però è emerso in sede di commissione antimafia e quindi ecco perché il discorso è un discorso più ampio di quello che fa pensare un singolo un singolo era morto a questo punto sono assolutamente d'accordo con il dottor Mignini che l'elemento forte a sostegno della tesi dell'amico Carlo Palego che è una persona assolutamente di spessore di cultura mite molto molto serio cioè del coinvolgimento anche nelle vicende dei delitti del cosiddetto mostro di Firenze di Mannucci Benincasa è costituito dal rinvenimento del 1993 attenzione in via Sant'Agostino in un palazzo di un nobile che aveva prestato all'altro nobile Mannucci Benincasa di nobile Bernardo Lotteringhi della Stufa bravissimo Lotteringhi della Stufa aveva dato incomodato d'uso gratuito questo appartamento nel centro storico di Firenze dove poi per puro caso alla morte del Lotteringhi della Stufa un familiare aveva stava facendo le pulizie l'opera di sbroglio ed era stato rinvenuto un vero e proprio arsenale con del materiale estremamente inquietante al suo interno materiale delle brigate rosse materiale che riconduceva alla strage sul treno Milano-Taranto altro materiale tra i quali soprattutto notevole numero di proiettili Winchester serie H cioè gli stessi identici di quelli utilizzati nella serie omicidiaria nota dal 74 all'85 come i delitti del cosiddetto mostro di Firenze e questo è un fatto da qui a dire quindi di conseguenza strategia dell'attenzione io non ho elementi per dirlo e non lo credo di qui a dire è certo il coinvolgimento del SISBI e non è possibile dirlo e non lo dico di certo c'è che le ombre sono tanti il fatto è quello e sicuramente è molto inquietante c'era anche vigilanti non dimentichiamo vigilanti che apparteneva credo credo appartenesse alla stay behind anche lui la vuole Biscotti per rispondere poi chiudiamo no soltanto per dire in un fascicolo di un processo per omicidio dico un fascicolo ma spesso ce ne sono decine se non centinaia leggendo le carte ci sono tante possibili ombre ma non ombre nel senso che nascondono qualcosa sono ipotesi e cose simili questo non significa che per forza devono avere attinenza se tu fai un'inchiesta importante a 360 gradi hai incroci anche diverse suggestioni diverse testimonianze quindi fondamentalmente la ritiene una suggestione questa perfetto è difficile chiudiamo tanto abbiamo capito come la pensa allora l'incontro di oggi finisce qui ringraziamo i nostri ospiti esatto avvocato Antognoni avvocato Biscotti e dottor Mignini e noi con Dark Side Storia Segreta d'Italia vi aspettiamo il 5 aprile avremo ospite molto atteso e Mario Mori con Giuseppe De Donno sarà un altro incontro molto interessante molto interessante vi invitiamo a seguire i nostri canali iscrivervi al canale Youtube Dark Side Storia Segreta d'Italia grazie a tutti